Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video dedicato al fantacalcio alla conclusione della seconda giornata Un format che alla prima giornata è piaciuto a molti utenti quindi lo ripropongo 5 giocatori che a seguito della seconda giornata secondo me hanno fatto vedere buone cose e salgono come potenziale fantacalcistico E 5 giocatori che invece scendono Ovviamente non vado a considerare i super top e i super flop di giornata che sono diciamo agli occhi di tutti Faccio delle considerazioni un pochino più mirate avendo visto le partite per intero Quindi ovviamente parlerò dei calciatori delle partite che ho guardato Quindi le partite che non ho potuto vedere è inutile che ve le cito perché parlerei del niente Cominciamo quindi con i giocatori che salgono di quotazione Allora il primo è sorprendentemente del Verona Sorprendentemente perché ha perso 3-0 e tra l'altro ha causato il calcio di rigore del 3-0 Cioè Chachua Chachua non avevo visto la partita contro il Napoli ma avevo visto negli Alize aveva fatto grandi cose Mi ha sorpreso molto anche nella partita contro la Juventus Al di fuori dell'errore sul calcio di rigore Ha fatto una bella partita Un giocatore di gamma, un giocatore che spinge tantissimo È listato praticamente difensore in tutti i fantacalci Ed è un giocatore che si prende magari a poco che in molte leghe può essere ancora svincolato Anche perché c'erano delle sirene di mercato che ancora non sono del tutto scomparse Quindi semmai aspettate la fine del mercato Però Chachua è un giocatore che può essere una interessantissima rivelazione di questo campionato E ve lo dico dopo la partita ha perso 3-0 con calcio di rigore procurato Perché ha fatto vedere ottime cose anche contro la Juventus Chachua è il mio primo consiglio Il secondo invece è dell'Udinese Che ha fatto una grande partita Sicuramente vi vado a dire al giocatore che un po' Diciamo chiaramente si è evidenziato un po' meno Ossia Karstrom Che però ha dato un equilibrio pazzesco alla squadra L'Udinese ha trovato una prestazione nettamente superiore a quella vista Nella prima giornata contro il Bologna E nel primo video vi dissi come sconsigliato come flop di giornata Lovric e vi dissi attenzione non può più fare questo ruolo qua Cioè non è adatto a fare il mediano in un centrocampo a due Ovviamente il giorno dopo la giornata successiva di campionato Gioca Karstrom al posto di Lovric E l'Udinese cambia da così a così Karstrom veramente ha stravolto proprio gli equilibri dell'Udinese Sarà un giocatore del tutto indispensabile per l'Udinese Tra l'altro è quasi sicuramente una richiesta dell'allenatore Perché giocava a Lech Pozna Nell'allenatore allenato per sei anni in Polonia Quindi lo conosce benissimo E quindi attenzione perché Karstrom non è un giocatore esaltante al fantacalcio Ma quel classico calciatore da sei, sei e mezzo tutte le partite Che nelle rose va sempre benissimo Che pagate pochissimo Sicuramente svincolate in tantissime leghe Ed è una chiamata intrigante Terzo giocatore che vi vado a consigliare è del Venezia Ed è Izzes che alla prima giornata era squalificato Quindi non lo abbiamo visto Prima giornata contro la Fiorentina Oltre ad aver fatto una buona partita a livello difensivo È andato vicino al gol due volte E questa è una caratteristica proprio importante del calciatore Che ha un grande fiuto del gol E l'ha sempre avuto in carriera E quindi può essere la classica rivelazioncina Di bassa classifica tra i difensori Che vi fa quei 4-5 gol in una stagione Attenzione perché Izzes è un giocatore molto interessante Chiaramente è un difensore centrale di una squadra di Francesco Quindi si predispone a prendere magari dei votacci Nelle partite in cui la difesa traballa Però attenzione perché invece la difesa del Venezia è forte Sverco, Izzes, Altare Un trittico di difesa forte proprio a livello individuale Per il livello del campionato che deve fare il Venezia Quindi un campionato da salvezza Quindi potrebbero fare anche meglio del previsto E Izzes vi può portare qualche bel bonus Già contro Fiorentina si è visto che si propone molto bene in area di rigore avversaria Quindi Izzes è il mio terzo nome Il quarto È del Como Ed è Strefezza Vecchia conoscenza dei fanta allenatori Perché due anni fa a Lecce Fece godere non poco quelli che lo avevano acquistato L'anno scorso invece fu una grande delusione Perché fece un giorno d'andata terribile Con il Lecce ed Aversa Per poi trasferirsi al Como in Serie B È fondamentale Giocatore a cui Fabregas non rinuncia Nonostante i 5 cambi Tanti giocatori offensivi a disposizione Strefezza è rimasto in campo tutta la partita Ed è un calciatore a cui Como si appoggia totalmente Per la manovra Ha toccato tantissimi palloni Spazia su tutto il fronte È quello a cui vengono chieste le giocate risolutive All'altezza della tre quarti Di assist, di cross Batte quasi tutti i piazzati Insomma È un giocatore che può riproporre Il rendimento della stagione a Lecce E quindi Strefezza che magari ha calato un pochino l'hype Visto l'anno scorso a Lecce Merita secondo me una considerazione superiore Strefezza è il quarto nome Il quinto e ultimo nome È del Cagliari Ed è Razvan Marin Centrocampista che è molto insordina Insomma Tanti magari non sapevano neanche se fosse al Cagliari Perché appunto l'anno scorso era in prestito All'Empoli ed è tornato al Cagliari Ha sorpreso anche me Come ho detto nel video post partita di Cagliari Como Perché non mi aspettavo un giocatore così centrale Per Nicola Che lo ha avuto a Empoli e non lo aveva valorizzato particolarmente Invece al Cagliari è diventato un leader della squadra Ha fatto una buona partita contro il Como Giocatore che ha soluzioni balistiche importanti Anche e soprattutto da calcio piazzato Quindi vi può portare dei bonus da calcio piazzato Perché lui l'ha indiziato a battere quasi tutti i calci piazzati del Cagliari Ed è un giocatore che comunque la sufficienza ve la strappa sempre Fanta calcisticamente parlando vale qualcosina in più di Karstrom Perché appunto battendo i piazzati vi può portare qualche bonus in più Però è quel tipo di giocatore Cioè quel giocatore che a centro campo fa comodissimo Quando mancano i titolari Se giocate con i mantra addirittura penso sia listato mediano un po' ovunque E quindi c'è anche questo jolly di essere un mediano che batte i piazzati Che è una cosa interessante Anche se in una squadra che magari non farà tantissimi gol All'interno della stagione Quindi Marin è il mio quinto consigliato Quindi il recap dei 5 consigliati sono Chachua dell'Ella Severona Karstrom dell'Udinese Izzes del Venezia Strefezza del Como E Razvan Marin del Cagliari Andiamo ai flop Insomma ai giocatori che secondo me Calano di quotazione fantacalcistica di appeal Partiamo dal primo e della Fiorentina Ed è Caiode Caiode che l'anno scorso è esploso letteralmente Sfruttando il grave infortunio che era capitato a Dodò Quindi il giocatore ha giocato da titolare quasi tutta la stagione Ha fatto vedere grandissime cose Soprattutto nelle letture difensive Quest'anno c'è stato il cambio modulo della Fiorentina È passato al 3-4-2-1 E l'esterno a tutta fascia a destra è Dodò Nelle preferenze, nelle gerarchie è Dodò Anche perché ha una predisposizione allo scatto superiore Un giocatore più rapido che ha un buon cross Quindi chiaramente viene preferito Dodò Caiode il cui vero ruolo secondo me in questo assetto tattico Dovrebbe essere il braccetto di difesa a 3-destro Non è mai stato provato lì Se non in caso di estrema emergenza Sia nell'amichevoli che negli ultimi 10 minuti a Parma Dove la Fiorentina è rimasta in 10 senza difensori di ruolo in campo Però non è una soluzione che Palladino sta considerando Il che implica che Caiode è proprio in pieno la riserva di Dodò E quindi non è quel giocatore che anche fantacalcisticamente Si era fatto valere l'anno scorso Cala tanto È una riserva Secondo nome è del Monza Ed è Pessina Pessina che campa di rendita Tra virgolette sul fatto di essere un rigorista Sul fatto di essere un giocatore che Ha toccato anche la nazionale Che insomma ha giocato Nella Atalanta Però al Monza gioca mediano Nel centrocampo a 4 Gioca male Perché molto spesso viene infilato Viene responsabilizzato molto anche in fase di possesso Perché al suo fianco c'è Bondo Che è quello che invece recupera i palloni Quindi Pessina viene un pochino utilizzato come giocatore di ordine A centrocampo Però non ha quel tipo di caratteristiche Quindi si predispone a figuracce Anche insomma nella partita contro il Genoa Il gol nasce da una sua palla persa E non si può attaccare solamente ai rigori Magari ne batterà 3 o 4 all'interno della stagione Ma non lo so E non è detto neanche che li segni tutti Però il giocatore non può essere considerato Uno di media fascia solo perché batte i rigori A livello di qualità del gioco È calato molto È calato molto Non è più quel calciatore interessante Che era qualche anno fa Anche fantacalcisticamente parlando Se Nesta dovesse rispolverarlo Trequartista Quindi magari a Cantabondo Ci gioca Sensi quando sta bene O Gagliardini E Pessina lo sposta sulla trequarti Togliendo o Maldini O Danimota O Vignato Insomma tutti questi giocatorini qua Allora forse Pessina si può rivalorizzare Ma finché gioca mediano E penso che giocherà lì Il giocatore cala molto di interessamento Il terzo nome che vi vado a sconsigliare Del Bologna Ed è Ndoie A parte che si è fatto male Quindi per un mesetto Insomma sarà fuori servizio E comunque vabbè c'è la sosta Quindi salterà una massimo due partite Quello non è il problema Con Cambiaghi che si è frantumato Chiaramente aveva guadagnato gerarchie Però il Bologna è intervenuto sul mercato E ha preso questo ragazzo Dominguez che gioca in quel ruolo lì Ha preso Iling Junior Che gioca in quel ruolo lì C'è Carson Che per caratteristiche Credo che a italiano piaccia più di Ndoie Quindi c'è tanta concorrenza su quella fascia Ndoie è un giocatore che Si è visto anche nella prima partita Insomma contro l'Udinese I gol non li sa fare E quindi Attenzione perché rischiate di pagarlo tanto Con l'hype dell'europeo Che ha fatto bello con la Svizzera Dell'essere un calciatore che gioca sugli esterni Italiano gioca molto sugli esterni Ma poi in realtà giocherà a mezze partite Cioè giocherà Inteso magari tutte le partite Va a voto ma non gioca Magari la partita intera E i bonus non arriveranno Quindi Ndoie è un jolly È un jolly però non particolarmente allettante Anche se lì è stato centrocampista Quarto nome è del Genoa Ed è Ruslan Malinoski Che io nei consigli del fantacalcio Vi avevo messo addirittura in copertina Ragazzi guardate che Malinoski Vedrete che contro il Monza Non ha giocato Non ha giocato Gilardino gli ha preferito Messias come mezzala E questa è una scelta forte Perché nonostante Insomma le assenze Un centrocampo Che un pochino si deve ricostruire È stato preferito Messias a Malinoski Questa è una scelta forte È arrivato anche Miretti dal mercato Io non stravedo per Miretti Lo reputo un giocatore anonimo da serie B Però c'è anche un giocatore in più C'è sempre Torsby Quindi Malinoski non gode di questa grandissima stima Da parte di Gilardino Che lo ha trasformato in mezzala Durante l'anno scorso Il percorso di adattamento al nuovo ruolo Secondo me l'ha fatto anche bene Però in questa stagione parte dietro E quindi Malinoski Così come Pessina Gode di tantissima stima fantacalcistica Per quel che ha fatto vedere All'Atalanta Per il fatto di essere un rigorista Per il fatto di saper tirare da fuori Per battere i piazzati Però non è titolare E quindi Scende anche lui di quotazione Il quinto e ultimo nome Che va nei flop di giornata Di sconsigliati È Tijani Noslin Del Lazio Lazio che Ha tenuto O almeno sembrerebbe voler tenere Isaksen Ha preso Ciauna Quindi lì c'è grandissima Grandissima Concorrenza In quel reparto lì Noslin In queste prime due partite Ha fatto male È stato sostituito in entrambe Non è un giocatore Che in carriera Ha mai segnato tanto Ha fatto molto bene al Verona L'anno scorso Con Baroni E questo fattore Rischia di farvelo pagare tanto Nel senso che pensate Che il giocatore Siccome è un pupillo Dell'allenatore E ha fatto benissimo Con Baroni in panchina Nel giorno di ritorno L'anno scorso Possa ripetere Quel tipo di rendimento Per tutto l'anno Alla Lazio C'è un cambio di livello C'è concorrenza Ben superiore Ci sono giocatori Accanto a lui Che magari fanno cose più belle Quindi magari Quello che fa lui Non viene esaltato Come faceva a Verona E quindi diventa un giocatore Da 5 e mezzo 6 Listato attaccante ovunque Che non è più Appetibile Come poteva sembrare Inizio campionato Soprattutto considerando Che Isaacsen Era dato in uscita ovunque Invece rimanendo Isaacsen E adesso sono in 3 in un ruolo E il rischio che il giocatore Parta dalla panchina Svariate partite È anche alto Quindi calano tanto Le quotazioni di Noslin Bene quindi Recap degli sconsigliati Insomma dei flop di giornata Sono Cajode della Fiorentina Pessina del Monza Doie del Bologna Malinowski del Genoa E Noslin del Lazio Il mio video si conclude qua Vi invito a scrivere nei commenti Cosa ne pensate Di queste 10 nomine Che vi ho fatto Se avete qualche altro nome Da dare Insomma in quelli che vi hanno sorpreso In quelli che vi hanno deluso Scrivetelo pure nei commenti Leggo e rispondo sempre a tutti Iscrivetevi al canale Se non lo siete Per supportarmi Soprattutto per farmi capire Condividendo magari il video Con i vostri amici Che i video sul fantacalcio Realmente vi interessano Perché sto facendo Questo esperimento sul fantacalcio Perché tutti ci giocano A tutti piace Ci gioco da tantissimi anni Anche io Però il mio canale Insomma Tratta principalmente Di calcio giocato reale Non di fantacalcio Però Mi è stato chiesto Da alcuni utenti A me piace Quindi facciamo questo esperimento Potete anche consigliarmi Dei format Qualcosa Insomma Se avete Dei suggerimenti Io ascolto le proposte A tutti Vi lascio in descrizione Al video Anche i link Per potermi contattare In privato Su Instagram Su Telegram O via mail Qualora Voleste Quindi Iscrivetevi al canale Condividete il video Mettete mi piace Fatemi capire Che questi contenuti Vi piacciono E ve ne porterò Ovviamente In abbondanza Noi ci vediamo Come sempre Ai prossimi video Il prossimo è dedicato Alla partita di serie B Che è stata più votata Sul sondaggio Che ho messo ieri Ossia Catanzaro Cesena Un caro saluto a tutti Ciao